Musica Cari amici di Fano TV, ben trovati. Secondo approfondimento in studio per parlare del Carnevale. 5, 12 e 19 febbraio. L'appuntamento è ormai alle porte. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti. Allora buonasera a Stefano Merisola. Buonasera. Buonasera. E buonasera a Daniele Carboni. Buonasera. Buonasera. Allora un programma ricco, nutrito, veramente tanti, tanti, tanti gli ospiti, tante le iniziative collaterali. Vediamo di illustrarli al nostro pubblico a casa e di invogliarli un po' a questa edizione del Carnevale. Allora cominciamo. Prima domenica. Prima domenica ad aprire le sfilate ci saranno i nostri super ospiti Giacomo Ciccio Valenti, Rossella Brescia e Baz. Direttamente da RDS, dal programma Tutti i pazzi per RDS ci faranno compagnia in questo fantastico carnevale. E poi nella seconda giornata? Nella seconda giornata chiaramente sempre come tutte le domeniche avremo il carnevale dei bambini al mattino, poi il pomeriggio il grande carnevalone con la spilata dei carri allegorici, il getto ormai famosissimo in tutto il mondo. E come ospiti quella domenica avremo, con la collaborazione dell'ASI, che è l'agenzia spaziale italiana, abbiamo l'onore di avere un astronauta, un astronauta che è Paolo Nespoli, che è famoso per tutte le sue avventure spaziali per cercare vita extraterrestre. Pensate un po', quindi è un personaggio che ha un sacco, mi dicono un sacco di follower, si dice così follower, sui social, quindi è molto seguito. Con lui verrà anche Michelangelo Pistoletto, che è un artista, che insieme stanno facendo un gran progetto, che è quello di unire l'arte allo spazio, che è, guarda caso, proprio il tema della nostra edizione, quindi spazio all'arte e il viaggio col volum. E poi terza domenica, questa volta? Terza domenica, si riprende col Carnevale dei Bambini la mattina dalle ore 10 in Viale Gramsci e poi il pomeriggio il terzo ed ultimo corso mascherato. Un programma ricco che parte già dal venerdì, quindi prende tutto il weekend, che parte appunto da sabato 4 febbraio fino al 21 febbraio, martedì grasso, dove ci sarà il classico rogo del pupo. Abbiamo parlato di iniziative collaterali, quindi Palazzo Bracci Pagani diventa il palazzo del Carnevale e anche lì un appuntamento per tanti. Esattamente, sì, proprio appunto Nespoli e Pistoletto, il sabato, presente appunto la seconda domenica, abbiamo un appuntamento con loro, dove chiaramente parleranno di questo progetto di spazio dell'arte, appunto questo palazzo Bracci Pagani che diventerà il palazzo del Carnevale, dove appunto dobbiamo ringraziare la fondazione Carifano perché ci ha dato questi spazi per poter fare le nostre attività. Abbiamo menzionato il martedì e il giovedì grasso, ci sarà anche la Notte dei Colori se ne vogliamo. Sì, ci sarà anche la Notte dei Colori in collaborazione con l'Associazione di Categorie e tutti i comprensionati del Centro Storico e ci sarà questa bellissima sfilata lungo Corso Matteotti che arriverà poi in piazza, quindi si troveranno in negozi aperti, la possibilità di fare acquisti, ma anche di divertirsi tantissimo fino allo spettacolo finale che ci sarà in piazza 20 settembre. Esatto, sì, diciamo che la sfilata è composta dai carri di seconda categoria, la nostra musica arabita e tutte le mascherate delle fazioni che anche loro vogliamo ringraziare per le bellissime mascherate che vedrete, insomma, sono fantastiche mi dicono. Appunto in piazza poi quando arriverà tutto il corteo ci sarà un grande DJ che è Rossi, Dario Rossi Live DJ che farà un bellissimo spettacolo insieme ai ragazzi di Joe VP Selection, quindi c'è tutta una serata di DJ che si alterneranno appunto sul palco Un DJ set, insomma, bene, ma allora visto che vi state divertendo anche nella preparazione di questo carnevale non siate troppo seri di fronte alle telecamere, insomma, perché le gag fatte dietro le quinte non le possiamo raccontare però ci stiamo anche divertendo, quindi i due sorrisi li regaliamo anche al pubblico a casa e perché parliamo anche di una cosa molto divertente, io la definisco proprio un'istituzione perché quest'anno ricorre tra l'altro il centenario, ovvero la musica arabita che ci rappresenta in ogni modo Esatto, 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 c'è anche un carro Vabbè, io ero entrato nella parte, diciamo, quella del direttore del carnevale che insomma dovevo avere anche io la mia forma a parte le scherzi, il carro della musica arabita quest'anno sarà una grande sorpresa perché? Perché abbiamo, diciamo, messo nel garage dei capannoni appunto della fabbrica del carnevale il vecchio carro per farne uno nuovo appunto per il centesimo anno di questa loro attività è un carro che avrà delle grandi novità, quindi è innovativo perché comunque è un carro che al di là della struttura che è molto imponente, quindi avrà chiaramente più o meno le sembianze di quello vecchio perché comunque abbiamo bisogno di fare dei gradoni dove accogliere appunto la musica arabita e la parte alta del getto, quello tradizionale però la novità è che comunque, l'abbiamo detto anche questa mattina in conferenza stampa che si illuminerà, pensate, dall'interno, quindi sarà un carro che durante la luminaria avrà tutti i suoi bei effetti speciali, novità e, diciamo, verso appunto questo viaggio verso il futuro che abbiamo iniziato col carro della musica arabita E quando si dice musica arabita si dice necessariamente Daniele Gaudenzi Assolutamente sì, tra l'altro quest'anno che dal, diciamo, dal giovedì grasso al martedì grasso quindi la settimana grassa, quando appunto la Presidente del Carnevale prende le chiavi della città e le dà al sindaco del Carnevale, il sindaco per l'appunto è Daniele Gaudenzi quindi questa mattina l'abbiamo annunciato in conferenza stampa e siamo molto lieti di avere lui come sindaco anche perché dopo i cent'anni lui, non so se lui abbia fatto cent'anni oppure qualcosa di meno Sarà contento tra poco Comunque non li dimostra, questo è sicuro però è un sindaco degno di questo Carnevale Assolutamente sì, in tutto questo programma e in tutte queste iniziative non dimentichiamo di dire che non riguardano soltanto le tre domeniche perché ci sono appunto degli eventi anche infrasettimanali Sì, si parte dal venerdì dove si potrà andare anche al Palazzo del Carnevale Palazzo Bracci Pagani appunto dove si troverà non solo la mostra della musica arabita ma anche l'inaugurazione della mostra di Paolo Furlani Ci saranno tantissimi eventi Oh, volevi dire, poca serietà e ce l'abbiamo fatta Ah, poca serietà, ce l'hanno dentro, la devono comunque tirare fuori, no? In qualche modo Avremo un torneo carnevalesco di touch rugby Avremo anche il Carnevale in Galleria, Alfano Center a cura di Alfano Animation e Teatrino Rosso La Notte dei Colori, come dicevamo prima Ci saranno tantissimi eventi particolari, molto divertenti tra cui il Castagnolo d'Oro dedicato ai meno giovani e il Carnevale in Soup per poi arrivare a un concerto dedicato ai Pink Floyd e The Side of the Moon al Teatro della Fortuna Sempre al Palazzo del Carnevale ci sarà una tavola rotonda dove si parlerà appunto del Carnevale di Fano tra identità e festa il pranzo con i carristi il sabato mattina e tante, tante, tante cose divertenti tra cui il veglione, Daniele, ufficiale l'unione ufficiale del Carnevale di Fano al Mediterraneo, al ristorante Mediterraneo diciamo a zona Gimarra e il tema chiaramente è spazio all'arte che è il tema che è da filo conduttore per tutta la nostra edizione quindi ci aspettiamo tante belle mascherate ci saranno dei premi quindi per il miglior singolo il miglior coppia, il miglior gruppo aspettiamo tanti marziani tanta arte tante maschere inerenti al tema e volevo aggiungere che la seconda domenica ci sarà una grande sorpresa che è quella di Raffi Raffi è la cantante pesarese che appunto ha avuto successo la scorsa estate perché ha aperto i concerti di Vasco Rossi quindi c'è tutto un progetto su di lei di Roberto Casini che è un collaboratore appunto autore collaboratore di Vasco Rossi il quale ci ha fatto un grande regalo è uscito i giorni scorsi sui giornali ci ha regalato un brano al nostro carnevale che sarà appunto una canzone dedicata al carnevale di Fano dove ci saranno appunto parole che mi ricorderanno molto il nostro carnevale ma non è una canzone solo per il carnevale è una canzone che può diventare veramente una grande hit come tante sue belle canzoni e a cantarla è stato scelto da lui per scelto proprio da Roberto un cantante che è fanese è emigrato il nostro Davide Mattioli che salutiamo esatto che salutiamo ciao Davide il quale si è prestato appunto con tanta gioia a venire a Bologna i giorni scorsi a cantare questa canzone abbia io già l'ho ascoltata e la sto cantando tutti dalla mattina alla sera in macchina non manca ce l'hai in toni? no non posso cantare non so cantare poi c'è anche da dire che insomma Davide non potrà essere qua ma perché ha degli impegni appunto con dei concerti in Repubblica Ceca ma ha mandato già un video e comunque saluta tutti ed è presente con il cuore ma soprattutto con la voce al nostro carnevale ed è bello che insomma un cantante fanese con tanta fanesitudine che lui si è portato anche a Praga possa interpretare diciamo che sono due fanesi che si sono dati il cambio nel senso che un bolognese che è venuto a vivere a Fano Roberto Casini e un fanese che è emigrato Fano alla fine ha rimpiazzato degnamente un artista con un altro e un'ultima cosa la canzone si chiama Amami benissimo noi non vediamo l'ora di poterla ascoltare ritorniamo a parlare della musica arabita e lo facciamo naturalmente con Daniele Gaudenzi cent'anni e non sentirli Daniele certo cent'anni e non sentirli perché la musica arabita quest'anno come sapete tutti compie cent'anni dal 1923 che la musica arabita è nata e quindi quest'anno facciamo una bella festa un centenario come l'ho definita io in apertura di questo approfondimento ho detto che è proprio un'istituzione ci rappresenta davvero in toto e fa parte del nostro folklore ma raccontiamo insomma ai telespettatori che magari non conoscono bene le nostre tradizioni di che cosa si tratta beh la musica arabita è nata nell'antano 1923 quando allora non essendoci la televisione non essendoci media non essendoci la radio la musica si fateva fare solamente nei salotti buoni dell'alta borghesia dove suonavano il clavicembalo dove suonavano l'arpa e il popolo non era accetto non era accettato in questi salotti quindi questi ragazzi questi bontemponi che erano operai artigiani erano contadini dice noi non non ci accettano allora facciamo gli strumenti per conto nostro e hanno costruito dei strumenti che adesso si chiamano batanai che fanno la parte ritmica della musica arabita diciamo per dire il fabolo si è fatto le forbicione come quella dove lavorava il sarto ha fatto le forbici l'altro la pentola che faceva una ristorazione quindi con questi oggetti sono andati a portare in giro sotto i salotti dell'alta borghesia che suonavano per portarli in giro e hanno cominciato a far baccano al che dice che una signora aprendo la finestra dice ma ragazzi ma cos'è traabiti e quella volta ha preso il nome musica arabita che da quella volta è diventato un gruppo folgoristico vero e proprio che giriamo oltre a Fano anche in Italia anche all'estero approfitto per dire che diciamo alla fine del nostro carnevale il 24 25 26 di febbraio saremo al carnevale di Evian Evian Le Ben in Francia quindi a portare l'allegria del carnevale di Fano in occasione di questi 100 anni ci sarà un nuovo carro e l'abbiamo già detto e ci saranno anche tanti appuntamenti con voi tante iniziative certo gli appuntamenti sono belli perché ci abbiamo una mostra che si farà da sabato alle 17 e si inaugurerà a Palazzo Bracci Pagani la musica arabita dove ci sono da vedere anche i vecchi strumenti della musica arabita e poi delle foto dei filmati a correre e vedere la storia della musica arabita bene siamo anche con Sara Olivieri a cui do il benvenuto buonasera buonasera perché si parla di Fano come città dei bambini e delle bambine e il carnevale e proprio tutto loro con tante iniziative in cui sono state appunto coinvolte anche le scuole certo e quale luogo migliore la scuola per conoscere tramandare le nostre tradizioni e il nostro carnevale ed è per questo appunto che l'ente carnevalesca ha proposto un progetto scuola carnevale riscotendo quest'anno un grande successo infatti per questa edizione 2023 il carnevale di Fano potrà contare sul coinvolgimento di tantissime scuole sono ben 29 le classi che parteciperanno di scuola primaria due gruppi di scuola secondaria di primo grado una scuola dell'infanzia due scuole parentali e una scuola superiore diciamo di secondo grado in che maniera li vedremo protagonisti le scuole che parteciperanno saranno il Corridoni e la Montessori per la direzione didattica Fano-San Lazzaro la Montesi e Cucurano per direzione didattica Sant'Orso la scuola Gentile per la Gandiglio e Centinarolo e Puderino per la Nuti non vorrei dimenticare nessuno Rossi per la scuola Padalino e poi per la scuola dell'infanzia Pia Venerini di Marotta e la scuola secondaria di primo grado Gandiglio e Nuti e non per ultima la scuola di secondo grado secondaria di secondo grado Nolfi e Polloni e poi avremo anche due scuole parentali quest'anno i Tesori del Futuro e il Piccolo Seme il progetto prevede la realizzazione di mascherate realizzate dai bambini e dalle loro insegnanti aiutate coordinate dai maestri carristi e da un'equip di artisti messi a disposizione dall'ente carnevalesca e in questi incontri laboratoriali hanno avuto la possibilità di partecipare in alcune scuole anche i genitori e questo diciamo che fa sempre molto piacere alle famiglie partecipare alle attività scolastiche un'altra un'altra diciamo parte del progetto è quella del laboratorio con il voulon e la musica ravita è stato molto bello andare nelle scuole e vedere questi bambini che erano interessantissimi a sentire la storia del carnevale che c'era il voulon che rappresentava racconta la storia del carnevale poi ti facevano delle domande quindi anche sapere la storia della musica ravita e loro erano entusiasti questi bambini proprio veramente abbiamo visto una gran gioia da parte di loro ed è bello anche perché dobbiamo già far capire ai bambini quello che è il carnevale che molti quando andavo a scuola io sapevo tutte le maschile di tutta l'Italia da Balanzoni Brighella questi bambini manca la cultura manca le informazioni gli abbiamo fatto capire quali sono le maschere abbiamo detto che la maschere comunque la maschere del carnevale di Fano la conoscevano tutti è il voulon è il voulon sì diciamo che è appunto questo divertentissimo laboratorio dove il voulon si presenta presenta il carnevale di Fano tutte le sue peculiarità quindi il getto c'è anche un momento dolce e un momento di musica con la musica ravita dove i bambini si divertono appunto a giocare a suonare il repertorio della musica eravamo un gruppetto con i batanai li abbiamo fatti cantare suonare sono divertiti tantissimo un altro appuntamento invece è quello della visita alla fabbrica del carnevale in Viale Piceno dove i bambini possono toccare con mano il lavoro che i nostri maestri carristi fanno quindi possono vedere la realizzazione dei carri e far domande e far domande e curiosità insomma sulla realizzazione del carro un altro bel progetto portato avanti dalla scuola dall'iceonorfi a Polloni è quello appunto che hanno realizzato anche loro una mascherata che sfilerà poi nelle domeniche del carnevale e in più grazie al progetto alternanza scuola lavoro si sono proprio trovati a lavorare con le associazioni alle mascherate con le fazioni quindi e hanno dato supporto in ufficio e nelle mostre e hanno collaborato con i nostri artisti messi a disposizione appunto della carnevalesca per lavorare nelle scuole quindi sono entrati nelle scuole primarie e hanno lavorato con loro con le maestre con i bambini e con le nostre artiste il lavoro il frutto del lavoro di questi mesi lo vedremo domenica mattina nelle domeniche mattina 5, 12 e 19 febbraio alle ore 10 lungo Via Le Gramsci da Via Le Gramsci partiamo svelo anche il nuovo percorso da Via Le Gramsci si parte si passa sotto l'arco d'Augusto pincio l'arco d'Augusto per arrivare poi lungo il corso e in piazza dove poi ci sarà animazione e musica e tanto divertimento e non mancheranno le caramelle bambini quindi vi aspettiamo vi aspettiamo tutti al carnevale e quest'anno noi sul carro nuovo siamo sempre più arrabiti vogliamo una città arrabita quest'anno ma non arrabbiata perché così ma arrabita proprio perché l'energia che porta all'allegria buon carnevale a tutti grazie Daniele buon carnevale a tutti Daniele se ti dico Rosita c'è l'entrano a parte gli scherzi Rosita è un robot che verrà appunto sempre dall'Agenzia Spaziale Italiana qua a Fano il 18 in piazza 20 settembre dalle 17 alle 19 e Rosita appunto è quel robot che viene lanciato sullo spazio per prendere campioni per vedere se c'è vita oltre alla terra nello spazio quindi è un robot che insomma è molto interessante tra l'altro verrà fatto una simulazione appunto nella nostra piazza e oltretutto tutti i consiglieri si sottoporranno tutti no vabbè questa tagliamo no così questa inoltre tutti i nostri consolieri perché ci consolano anche nel frattempo no esatto vai ciao ciao inoltre tutti i nostri consolieri non ce la faccio i nostri consiglieri ce la faccio vai oh vabbè era una gang questa se l'ha capita certo non l'ha fatta apposta inoltre ci sottoporremo tutta insomma il consiglio della carnevalesca a vedere se ancora dentro i nostri cervelli c'è vita perché chiaramente e finché c'è vita c'è speranza bene bene detto ciò detto ciò chiuderemo il martedì grasso con il concerto di Gioetti Vannelli quindi oltre a me e a Pupo ci sarà anche Gioetti Vannelli Pupo sarai te comunque il drogo lo facciamo lui e il Pupo lo faccio io ok qui siamo d'accordo ci sarà comunque la riconsegna appunto delle chiavi al sindaco che dovrà riprendere in consegna la nostra città e finalmente chiuderemo e daremo e daremo anche il tema del prossimo Carnevale 2024 bene quindi ci sarà questa strepitosa anteprima assolutamente parliamo anche di tesseramenti tesseramento sì tesseramento tesseramenti ho detto tesseramenti tesseramento il tesseramento speriamo che siano tesseramenti tantissimi tesseramenti che si possono fare presso la sede dell'ente carnevalesca presso palazzo bracci pagani dove appunto ci sarà il palazzo del carnevale e si potrà fare anche online tesseramento che ti permette non solo di avere tantissime convenzioni ma soprattutto di entrare a solo un euro a solo un euro il carnevale di Fano vai sembravi proprio quelli delle televendite l'abbiamo perso abbiamo perso Daniele Carbone non ce la possiamo fare non ce la possiamo fare allora li invitate voi i nostri amici a casa sì ecco li invitate voi no dico i nostri sì vai con gli inviti vai con gli inviti allora ci vediamo il 5 il 12 e il 19 di febbraio presso Viale Gramsci per il grandissimo carnevale di Fano e vi rimandiamo al nostro sito per tutto il programma del carnevale vi aspettiamo grazie allora ai nostri ospiti grazie a voi per averci seguito naturalmente a Riccardo Sora in regia vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi ciao ciao Fano ciao